Buonasera, bentrovati e grazie dell'invito. Un saluto carissimo al confratello, il vostro vescovo. Lui è di Genova, i miei genitori non ci sono più, erano di Pontremoli, quindi gioco in casa, mio papà di Vignola, mia mamma di Pontremoli città e quindi mi sento legato a questa vostra chiesa, ma mi sento legato anche perché alcuni di voi li ho incontrati e li saluto adesso, prima non è stato possibile, quando in una specie di scambio tra settori dell'apostolato biblico siete venuti a Perugia per animare, vi ricorderete, una bellissima giornata della parola di Dio e della Bibbia. Chiara si riferiva al fatto, in modo un po' ermetico, che dopo aver lavorato per cinque anni per questo commento al Vangelo di Matteo mi sono buttato nel bosco del convento per lavorare un po', perché ero stufo di stare sui libri, però è stata una gioia approfondire alcune cose e vi ringrazio perché me le avete restituite in un modo così bello, creativo, attraverso le immagini e queste sintesi e questi approfondimenti che avete davvero ben confezionato. Non so se vi siete resi conto, ma è già passata un'ora e nemmeno ce ne siamo accorti. Allora, venti minuti per me, per dire qualcosa sulla Chiesa di Matteo, oltre a quello che avete già detto, aggiungendo qualche elemento di quella che è l'Ecclesiologia del primo Vangelo. Intanto è una delle Ecclesiologie, perché i 27 libri del Nuovo Testamento hanno quelli che parlano di Chiesa, meglio, quelli che descrivono la comunità dei discepoli di Gesù, perché la parola Chiesa non si trova negli altri Vangeli, come dirò, si trova per esempio in un testo antico, ma lo usa Paolo, ma nei Vangeli c'è solo in Matteo. Bene, la Chiesa si può dire in molti modi. E pensiamo semplicemente a un evento come quello della Pentecoste, che nel racconto di Luca, negli Atti degli Apostoli, è il modo con cui la Chiesa esce dalle quattro mura chiuse, si apre alla missione. Oppure pensate ancora alla versione del Vangelo secondo Giovanni, dove la Chiesa è presente, sì nel Cenacolo, nella sala dove Gesù celebra la cena, ma si trova anche nel simbolo, dicevano i padri, della veste inconsutile, ricordate? Quella veste di Gesù che viene strappata a lui quando è crocifisso, ma rimane unita. È un simbolo per dire che la Chiesa nasce comunque dalla morte del crocifisso, i sacramenti dal suo costato, tra il quale è anche il sacramento della Chiesa. Oppure pensate alle lettere di Paolo, ma su questo Don Alessandro è l'esperto, dove la comunità, per esempio una delle lettere più antiche, la lettera alla comunità di Corinto, dice la ricchezza di questa Chiesa, ma anche i problemi che questa Chiesa affronta, gli scandali, gli incesti, le divisioni. Ecco, in quale modo Matteo dice la comunità, cioè la Chiesa che sperimentiamo anche noi. Intanto partiamo dal fatto che la parola ecclesia, che è una resa possibile dell'ebraico kahal, cioè la comunità radunata, si trova solo in questo Vangelo. Ecco perché Matteo è chiamato il Vangelo ecclesiale e questa parola ricorre però, prima che nel capitolo che stiamo leggendo e esaminando, quello diciottesimo, ricorre nella famosa scena di Gesù e di Pietro a Cesarea di Filippo. Li ricordate? Pietro è capace per l'aiuto di Dio di riconoscere in Gesù il Messia, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, e Gesù risponde. E io ti dico, dico a te, con una formula che è molto costruita, ma che dice con tutta probabilità uno strato, una stratificazione antica, quindi una parola gesuana di Gesù, io ti dico tu sei Pietro e su questa roccia edificherò la mia chiesa. Ecco, notate, il verbo oikodomeo, cioè costruire come una casa, oikodomeo, la mia ecclesia. Se leggete la traduzione della versione della conferenza episcopale italiana, che è molto bella, stata corretta nel 2018 con più di centomila cambiamenti, non troverete in modo consistente la parola chiesa, che ricorre, come vi ho detto, qui al capitolo sedicesimo e poi nel nostro capitolo diciottesimo. Si parla piuttosto di chiesa o di comunità o nella vecchia versione di assemblea, ma sempre ecclesia è. Che cosa voleva dire Gesù? Intanto, ecco, è molto importante questa comunità che è descritta nel capitolo diciottesimo come una comunità, dicevano i nostri amici, di piccoli, di peccatori, di persone che si perdono. Questa comunità non è una compagnia di amiconi, ma è voluta dal Messia. Ecco, ora noi potremo domandarci, della domanda importante, ma questa chiesa Gesù l'ha pensata dentro o fuori il giudaismo? Cioè Gesù ha vissuto come figlio del proprio popolo con gli insegnamenti del padre e della madre che l'hanno educato alla Torah e all'osservanza dei precetti dentro questo popolo e quindi siamo certi che ha voluto vivere questa esperienza all'interno della comunità giudaica. Ecco, non voleva edificare qualcosa che stesse fuori. È stata un'operazione molto complicata, certamente, perché, come diceva Don Alessandro prima, è più facile sfasciare che costruire. Possiamo dire, è più facile dividersi che tenere insieme. Ecco, dopo le elezioni che ci saranno tra qualche giorno, probabilmente ci saranno rimodulazioni di partiti che si rivideranno di nuovo, che formeranno altri partitelli, mentre Gesù non voleva fare questo. Ha voluto, però, con un simbolo che è costruito sulla pietra, o meglio, la roccia che è Pietro, darci il senso dell'unità appoggiata a Pietro e alla sua capacità di costruire. Ecco, un piccolo elemento che deve essere chiaro. Anche se la traduzione in lingua italiana gioca sul greco che vede che vede Petros e Petra, noi non dobbiamo rendere con Pietro come la pietra, perché Pietro è una persona, la pietra, se volete, il sasso, e voi che siete qui lo sapete molto bene perché ve ne intendete di sassi, di pietre, di marmi, il sasso, se volete, o la pietra, si prende e si sposta. Ricordate l'inizio dei Promessi Sposi, quando Don Abbondio cammina in quel sentiero del lago di Como, ad un certo punto c'è una piccola pietra, lui con la sua scarpa la getta via. Nel greco Petra, che è il riferimento che Gesù fa alla persona di Pietro, non vuol dire pietra, anche se c'è un'assonanza, questo è un gioco che dice anche un'antichità della formula, perché in greco sasso, pietra, è litos, e invece che cos'è la petra? È un masso, è una roccia che non si può spostare. Allora, questo è molto interessante perché dice che questa comunità che Gesù vuole edificare, come una casa, oikos, oikodomeo, questa comunità ha una base solida. Ecco per cui tutto il resto della promessa e le porte dell'Ade, cioè lo stesso inferno, non prevarranno. Ecco, che cosa vuol dire questa formulazione? Alcuni nella Chiesa Protestante hanno pensato che il riferimento fosse proprio alla fede e alla professione di Pietro, che ha detto tu sei il Messia e dunque su questa fede ci si può appoggiare. Ma l'interpretazione cattolica, potremmo dire, più antica è quella che invece dice c'è una persona su cui costruire. E questo ci riporta in avanti a quello che stiamo vedendo nel capitolo diciottesimo. La Chiesa non è costruita per gli angeli, ma è costruita su una persona. E quando c'è una persona di mezzo, non solo la sua fede, perché la sua fede poi può anche essere incrinata. Ci ricordiamo quello che succede quando Pietro si troverà nel cortile del sommo sacerdote e gli diranno, ma tu sei, eri con lui e Gesù, con Gesù il Galileo? E Pietro risponderà no, rinnegando la propria fede, venendo meno al proprio impegno. Ma forse, ecco il punto, sulla persona si può costruire, Gesù trova qui un elemento forte, ma che fa sì che questa Chiesa è costruita su persone, ed ecco perché la Chiesa non è fatta di angeli perfetti, ma di persone con le loro fragilità. Ma è Gesù che la costruisce. Quindi deve essere chiaro questo elemento. Gesù ha avuto la volontà, è già stato citato nel bellissimo riassunto del primo Vangelo, il momento in cui Gesù chiama i primi discepoli. Li chiama per nome, anzi, al capitolo decimo viene dato, nel Vangelo di Matteo, l'elenco dei dodici apostoli, che poi saranno chiamati, come già stato detto, i dodici discepoli. Quindi ecco perché nell'Ecclesiologia di Matteo questa Chiesa non aspetta, in questo cammino del lettore, non trova la Chiesa solo alla fine, ma la trova nel percorso ancora e già del Gesù storico e già il Gesù storico in questa Chiesa deve affrontare nella comunità che lui ha voluto e che lui edifica e che basata su Pietro trova questa Chiesa alcune tensioni. Quali sono le tensioni principali? La prima, la tensione che è già stata in qualche modo ricordata, non solo con il giudaismo, ma con i pagani, cioè con quelli che non appartengono al popolo di Israele. E questo elemento è presente in modo, diremmo, carsico nel Vangelo di Matteo, non è la Chiesa di Luca. Se leggete il Vangelo di Luca, voi ricorderete già della prima battuta, quando il piccolo Gesù, il bambino, viene portato al Tempio, Simeone dirà che questo figlio è luce per illuminare i pagani. Cioè questa luce non è solo la gloria del popolo di Israele, ma è la luce per i pagani. Cioè c'è già un'apertura che poi si ritroverà all'inizio della missione del Signore, quando nel Vangelo di Luca la genealogia arriverà fino ad Adamo, per dire che Gesù è figlio di Adamo, cioè in lui tutta l'umanità, anche i goim, i pagani si possono ritrovare. Ma il Vangelo di Luca è diverso da quello di Matteo. Nel Vangelo di Matteo Gesù è figlio di Davide, figlio di Abramo, il primo versetto, e la sua genealogia, che si trova proprio in apertura del primo capitolo, si ferma ad Abramo. Gesù è il Messia degli ebrei. Ecco perché nel capitolo decimo, quello della missione, che sta in piedi con i dodici e che Gesù invia, in questo capitolo la missione non è ancora per i pagani. Lo vedrete domani meglio. La missione si ferma a Israele e non è né per i pagani e né per i samaritani. Ma attenzione, nella genealogia di Gesù, anche secondo la versione di Matteo, ci sono alcuni stranieri. C'è Ruth, la Moabita, e c'è una donna che era la moglie di Uria, littita, e dunque c'è la presenza, insieme anche a Rachab, quella prostituta di Gerico non ebrea, di persone che dicono e lasciano presagire un incontro che però non sta ancora avvenendo con quelli che non sono l'Israele di Dio. Dunque questa tensione si risolverà solo alla fine, e lo vedrete domani, quando Gesù, con quella che viene chiamata da Great Commission, la grande missione, invia questa volta i dodici anche ai pagani. Ma solo dopo che il risorto è uscito dal ventre del grosso pesce, come Giona, è stato detto, come Giona è stato sputato dal grosso pesce e quando è gettato sulla riva del mare, allora può andare a Ninive, dopo tre giorni. Questa prima tensione dunque rimane e rimarrà solo fino alla fine del Vangelo, quando il risorto dirà ora andate, mentre andate, fate discepoli e battezzate tutti i popoli. Ecco, allora lì nella comunità di Matteo si vede un'apertura ad extra e poi c'è la seconda tensione sulla quale vi siete già soffermati. Qual è? È quella con il limite. tra le esigenze del Vangelo e la proposta di Gesù, che è una proposta grande, bella, di una vita piena e che si scontra con il peccato tuo e del fratello. Il capitolo diciottesimo è un grande dono di realismo della vita cristiana, dove per la seconda e terza volta appare la parola chiesa. Allora la chiesa non è la comunità dei perfetti, come Papa Francesco, già all'inizio del pontificato, in una catechesi del 13 aprile 2016, proprio commentando le pagine del Vangelo di Matteo, ci ricordava che la chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino che seguono il Signore perché si riconoscono peccatori e hanno bisogno di perdono. Ecco, in questo capitolo diciottesimo c'è proprio la logica di cosa fare del tuo peccato e del peccato dell'altro. Qual è la logica? Voglio approfondire questo elemento e così chiudo questa mia prima riflessione. È una logica che è basata intanto sull'autorità che Gesù concede, cioè su un suo potere è stato detto, la comunità, quella di Matteo al capitolo sedicesimo che Gesù costruisce su Pietro la roccia, è quella che si trova descritta come la comunità viva, concreta nel capitolo ecclesiale. Questa comunità è una comunità di peccatori, ma che ha un grande dono. Quale? L'autorità che Gesù ha dato a Pietro e che ora dà a tutta la chiesa, cioè di legare e sciogliere. Attenzione, perché se Gesù dice queste parole nel capitolo sedicesimo a Pietro, ora le dice a tutti. Ecco, è vero che poi la chiesa ha compreso in senso sacramentale questo potere, questa exusia all'autorità, come la potestà che riguarda il sacramento della remissione dei peccati e della riconciliazione. Ma non dimentichiamoci, Gesù dice a voi è stato dato questo potere. Cioè voi ora, al plurale chiesa, avete la facoltà di legare e di sciogliere. Che cosa vuol dire? Ecco che la possibilità che Gesù dà del grande potere che lui esercitava di rimettere i peccati è un potere che sta anche nelle nostre mani ogni volta che siamo chiamati a perdonare il fratello. E così io posso rimettere il peccato del fratello in questa logica che è tutta giudaica e che nel discorso della montagna Gesù aveva già chiesto di mettere in atto. Se tu vai e scopri mentre preghi che c'è un fratello che ha qualcosa contro di te, tu lascia lì e vai a riconciliarti. Bene, allora questa comunità costruita sul perdono e sulla misericordia chiudo ha la facoltà e il dovere di cercare proprio i più piccoli. Ed è con questo che voglio lasciarvi, in questa mia riflessione, soffermandomi su un punto delicato che potrebbe sfuggirci di questi tre passaggi che nel capitolo diciottesimo vengono chiesti da Gesù e che riguardano, abbiamo detto, l'invito a chi sbaglia a confrontarsi innanzitutto con una persona, poi con due testimoni e poi con la comunità. Ecco vedete c'è una logica progressiva. Io ho fatto un confronto con quello che succede proprio a Pietro durante la pagina che descrive il suo rinnegamento, quando se rileggete, ecco qui siamo però nel Vangelo di Marco, Pietro viene come messo allo scoperto da una serva e poi ci sono due altri testimoni e poi c'è tutto il gruppo che scopre e mette in rilievo il suo peccato. Ecco che cosa vuol dire della conclusione del ragionamento? Quando tu vedi che non ha ascoltato la Chiesa, la seconda e la terza volta, che ricorda questa parola in Matteo 18-17, sia per te come un pagano o un pubblicano. Che cosa vuol dire? Dopo che il fratello piccolo, abbiamo detto, il piccolo che ha sbagliato, il fratello fragile che ha commesso un peccato, un errore, che crea problemi e che è stato ammonito prima da una persona, poi da altre due o tre, poi dall'ecclesia. Se non ascolta l'ecclesia, che cosa fare? Consideralo come un pagano e un pubblicano. Ecco, qualcuno di voi ha detto va allontanato. Attenzione, perché questa è stata l'interpretazione che la Chiesa ha dato, per esempio, nella logica della cosiddetta scomunica. Però, se ci pensiamo, che cosa ha fatto Gesù con i pagani e i pubblicani? Ecco, se non li andate a cercare, almeno nel Vangelo di Matteo, Gesù non ha cercato nessun pagano, ma sono magari due pagani, la donna, Siro, Fenicia, Cananea, il centurione, che sono andati da Gesù. Però, certamente, Gesù ha cercato gli esattori delle tasse, come Matteo, come Zaccheo, e ha accolto i pagani. Ecco, dunque, quest'ultima parola che Gesù ci lascia, nemmeno questa ci mette in pace, come se la scomunica fosse semplicemente l'atto finale con il quale si è risolta la tensione. Potremmo dire, questa tensione non si risolve, perché il fratello che ha sbagliato e che per te, come un esattore delle tasse o come un pagano, ha bisogno della stessa misericordia che Gesù ha dato e della stessa attenzione che Gesù ha conferito proprio a questa categoria di persone e verso le quali Gesù si è avvicinato. E davvero, dunque, questa ecclesiologia, e lo vedremo meglio anche più avanti, è una ecclesiologia che apre una comunità che ci fa dire stiamo proprio bene dentro questa Chiesa, perché è una Chiesa di peccatori in cammino e tra questi ci sono anche io.